Buongiorno, 9 dicembre 2019, siamo in piazza di San Pietro. Qui è stato collocato un presepe, questa edizione 2019-2020. Mentre nel 2018 il presepe era solo di sabbia. Buongiorno, 10 dicembre 2019, siamo in piazza di San Pietro. Buongiorno, 10 dicembre 2019, siamo in piazza di San Pietro. Buongiorno, 10 dicembre 2019, siamo in piazza di San Pietro. Resina, terracotta, sughero, muschio, polistirolo e legno. Abbastanza ampio, prevale polistirolo e gesso in varie opere. Questo in ceramica, dalla Croazia, dall'Equador, da Petlemme, dall'Equador, da riedi confilati di cotone e materiale da riciclo. Legno, gesso e stoffe, da Montiano, Forlì, Cesena. Da Roma, terracotta, vetro, stoffa, erba e legno. Da Roma, gesso, mastice, tempera, fil di ferro e materiali riciclati. Sughero, legno e gesso, ortona di chiedi. Da Matera, argilla, polistirene, cartongesso, legno e tessuto. Ancora polistirolo, sughero e legno, da Roma. Gesso, metallo, legno e stoffe, pin e pietra, polistirene. Qui, quadri. Da Latina, sughero, legno e terracotta, cera, ferro, gesso e stucco. La nascita è ambientata tra le rovini antiche di un tempio. Tutto in ceramica dalla Croazia. Da Roma, polistirolo, riciclato, tela per i personaggi e pasta fresca per la pavimentazione. Da Segni, provincia di Roma, legno, segatura, caffè, fieno, d'asse, bottiglie in vetro, sale, colorato, stoffa, spago e lana. La natività è ambientata e l'opera, raffigurando la scena della natività, immersa nel paesaggio dei Monti Lepini. Tutto in conchiglie, conchiglie marine e matriani vari. La natività è al tempio di Erode. Questo tutto in legno, radice di un albero. Pirottini per dolci, materiali riciclati, arachidi, bastoncini di legno, cubo di legno e colla vinilica. Bottoni, scatole, materiali riciclato. Pasetti, piante, corda, stoffe, filante di cotone e lana. Tappe di pennarelli e stecchi di gelato. Volantini di carta, scatola di profumo, adesivi e colla vinilica. Capsule di caffè usate, chicchie di caffè, raffia, sfere in legno, piatto decorativo, colla vinilica. Cera, sfere, cartone e fieno. Provincia di Frosinone. Roma, cartone pressato, tampi di sughero, vanta, panno lence e farina di polenta. Provincia di Frosinone, tutto in conchiglie. Ora passiamo al zucchero, stecchi di gelato e mollette in legno. Provincia di Roma. Concludiamo in percorso con con presepe realizzato in materie elevari. I sette pilastri dell'educazione secondo Papa Francesco. Ora da Cassino, provincia di Frosinone, materiale polistirolo, resina, ceramica e stoffa. Presepe realizzato in legno. Grazie. 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 Siamo presso la sala Pio X in via della conciliazione laterale del Vaticano, in occasione dei 100 presepi in Vaticano. 100 presepi appunto in Vaticano consiste in un'esposizione di oltre 100 presepi, il 100 è rimasto in quanto nato come 100 presepi ed esposto per diversi anni, 42 anni, presso le sale del Bramante di Piazza del Popolo a Roma. Ora dal 2017-18 sono esposti presso questa sala appunto prima nominata, sala Pio decimo, ora c'è di tutto e di più, di ogni materiale particolari, legno anche di pino, ghiande, nocciole, sassi, terra colorata e muschio. Di sughero e corteccia a sfoglia, pannelli di legno, conci di dufo, piperno, terracotta, un quadro di carta e colori, Lazio, Minturno, Latina. In quanti pezzi? In 9 pezzi belli grandi. Questo di gesso, polisterole e altri materiali. Poi passiamo alle piccole dimensioni, dall'Ungheria, con paglie e buccia essiccata di Crandurco, perline, legno e vimini. Poi ancora dalla Campania, è sempre presente, ora con legno di olivo, dalle marche, piante di rosmarino, serpillo, legno di olivo, ceramica, conali, conchigli, alghe. Ora con legno, feltro e carne, carta dorata. Addirittura, su una forma di chitarra, di legno, stoffa, riso, carta, tempera e colla a caldo. Presepe realizzati con legnetti e colla dell'albero di fico. Provincia sempre la Latina, Minturno, mentre pedina degli scacchi, legnetti e pigne di pino, su una scacchiera. Questo è legno di radici di prunus. Ancora di legno, le canne e pigne, realizzati con legnetti spiaggiati, pigne e canni della foce del famoso fiume Garigliano. Da Minturno, provincia Latina. Da Matera, gruppo scultore o rappresentante la natività. Di cartapesta e terracotta. In terracotta, una scena del presepe realizzata con terracotta patinata. Questo in polistirene, gesso, legno di balza e regilla. Legno, sughero e gesso, scena della natività ambientata in un acquedotto romano. Da Lazio, Roma. Legno, fil di ferro, creta, d'asse e stoffa. Scena del presepe in costume, tipico. Dall'Abruzzo, città, cerchio dell'Aquila, provincia dell'Aquila. Questo in polistirene, cartone, legno e elementi naturali, rappresentando un antico casale di Valmontone. Questo dall'Ansio, Roma. Terracotta, legno, sughero, cera, stoffe e passamanerie. Questo in polistirene, legno, carta, cera, da Perugia. Provincia di Perugia, Terni. Questa è la torre del greco, corallo e sugero. Corallo rosso, bianco ed ebano. Sughero, legno e corallo. Ancora torre del greco, che primeggia, in questo caso, in una conchiglia. Corallo rosso, terracotta, seta, sete, passamanerie. Questo in terracotta, sete, passamanerie e materiali di recupero. Addirittura, in uno stensorio, realizzato con materiali di riciclo e inserimento di elementi tipici della Palestina. In provincia di Ravenna, la Vizzola. O la Vizzola. Legno di olivo, da Vico del Gargano, provincia di Foggia. Grazie. Grazie.